Come finisce? Ma però serve una cosa utile a me. Come sta andando adesso? Perché io mi sono un po' perso. Bene, sì, intanto tutto buonasera a tutti. La domanda è legittima ovviamente. La risposta non può essere altro che vaga, a meno che di non fare delle illazioni. Siccome però io di illazioni ne vedo tante, stamattina proprio leggendo i giornali ho trovato delle cose stupefacenti che fra l'altro mi fanno veramente piacere. Cioè in pratica l'Ucraina sta vincendo la guerra, i russi stanno scappando e quindi è tutto finito. Noi qui stiamo qui ragionando di quello che avrebbe potuto essere nel caso che i russi avessero fatto un altro tipo di campagna. Sta andando, detta in maniera più seria e comunque vista dal punto di vista militare, dall'aspetto prettamente sul campo di battaglia. Quello che è successo in questi ultimi giorni io non la vedo come una vittoria di una grande controoffensiva ucraina. La Russia quello che ha fatto in questi ultimi due giorni è quello che ha sempre fatto dal principio della campagna. Cioè va, cerca di dimostrare qualche cosa, cerca di fare qualche cosa nel momento in cui non ci riesce, per vari motivi, si ritira, sposta l'asse della propria potenza in un altro settore e questo va avanti. Quello che non è accaduto è quello che tutti quanti si aspettano, cioè che la Russia fermi veramente questo tipo di offensiva, questo tipo di operazioni. Non succede, anzi succede l'inverso. La logica di queste manovre dal punto di vista militare è abbastanza ingenua, ma anche molto pratica. Nel momento in cui c'è una situazione di stallo dalla quale non si riesce a venire fuori per motivi vari e soprattutto se quello che ci si aspetta è un risultato o un evento di carattere politico strategico e questo non avviene, l'unico modo per spezzare lo stallo fra due che si stanno confrontando è quello di spostarsi, andare indietro, lasciare le aree che si sono fino a quel momento occupate e dopodiché spostare questa forza, questa potenza su un settore più valido, un settore più interessante per l'economia generale delle operazioni. La Russia fino a questo momento non ha subito una debacle della propria controoffensiva. La Russia ha lasciato male, non benissimo, ha lasciato male dei settori lasciandosi dietro delle truppe che sempre quando avvengono queste manovre se ce ne sono alcuni che si lasciano dietro e vengono fra virgolette sacrificati, se si è tirata indietro lasciando questo spazio vuoto le forze ucraine sono riuscite ad andare avanti e il fatto che vadano avanti come si vede dalle immagini e che subito di dietro ci siano le colonne di auto di civili che vanno dietro un carro armato significa che poi tutta questa ritirata strategica da parte dei russi non c'è stata, c'è in effetti un alleggerimento della posizione un movimento retrogrado come si chiamano in gergo e gli ucraini hanno rioccupato quel territorio che non è poco, vuol dire è un grande risultato, ma a che scopo e che cosa ci dobbiamo aspettare? quello che ci dobbiamo aspettare secondo me è una fase ancora più dura, ancora più bellicosa perché quando succedono queste operazioni le forze che si sono mosse devono essere inserite vengono inserite in un altro settore che in quel momento magari è carente e allora aumenta lo sforzo e aumentano anche ovviamente le vittime, aumentano anche le carenze di carattere logistico e così via. Quindi la controoffensiva è una esagerazione ma se vogliamo anche una banalizzazione di quello che tutti quanti si aspettano.